salve a tutti ragazzi bentornati benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video continuiamo l'avventura su dei zii dopo il primo appuntamento in cui abbiamo dovuto ricominciare da capo per il wipe che è stato fatto su tutti i server ufficiali dopo l'uscita della recente patch intanto volevo anche ringraziarvi per i feedback e per le conferma insomma che è comunque una pratica diciamo normale dopo otto mesi fare un wipe dei server solo ufficiali ovviamente quelli privati tra virgolette se la gestiscono ovviamente come come vogliono allora ci siamo lasciati che eravamo all'interno o qua c'è già una mitraglietta scusate eravamo all'interno della stazione di pulizia e vista che questa già ci abbiamo trovato qualcosia di interessanti c'è un corpo solo però come si suol dire meglio di meglio di niente il cortello comunque ce lo teniamo perché potrei sto a fa un casino sto a fa allora questa la togli e questa la metti qua e qua ok a posto allora continuiamo la nostra esplorazione ragazzi ovviamente prestando attenzione a quello che potrebbe eventualmente esserci siamo ancora nella nella città diciamo un'altra pistola questo addirittura col spaziatore manca il caricatore dannazione vabbè per ora ce la prendiamo un corpo solo se sbagliamo quella è finita dicevo siamo ancora nella città iniziale non ci siamo ancora allontanati abbiamo senza pronove no abbiamo trovato sta stazione di pulizia quindi era il caso di dagli un'occhiatina allora il tempo non promette affatto bene questo che so proiettili o fiammiferi pari colpi 0 30 punto 3 80 che so proprio quelli che ci servono per il nostra per la nostra mitraglietta ottima ottima allora aspettate un attimo qua chiudiamo un secondo famo una bella cosa spacchietta tutto ok e riprendi un attimo questa questo lo togliamo lo scambiamo e lo carichiamo stavo un pochettino più tranquilli quanti ce ne entrano 20 in totale e minchia ok ma già inizia da piovere santo santo della pioggia dannazione che palpebre allora questa scusi eh la facciamo a spostarla qui per chi sta buggato come funziona perché non me la fa cambiare ok c'è avuto un mancamento un lag pauroso perché scusi c'è qualcosa che che mi perché non me li combina più cosa arrabbiare perché gli aveva eh no lag al server lag a qualcosa eh sì direi che c'è qualche problemino di lag perché se no non è possibile insomma vabbè proseguiamo dai vediamo se troviamo qualcos'altro di buono giacca da poliziotto eh molto danneggiato molto danneggiato questo è 30 questo è 30 vabbè sti cavoli questi che so pantalono questo giubbotto questo ce lo prendiamo assolutamente quella è la porta per uscire vediamo bene anche il piano sotto e poi ci ci allontaniamo anche perché sta pure a piove che pizza mamma mia ma è una gioia o entro che sta tramontando o entro che sta piovendo c'è una cosa incredibile allora che caricatore abbiamo becchiato caricatore della block 91 questa che è la block 91 mazza oh ci sta andando di lusso questo e niente è stato calciato connessione stabile me ne so accorto me ne so accorto connessione stabile laggiava come se non ci fossero domani vediamo un po' se riusciamo giocatore con stessone eh sì so io so io frate forse bisogna aspettare che effettivamente il gioco si ricordi che siamo usciti vediamo se riusciamo sì forse sì eh perdonate raga però non è colpa mia insomma mi è mai successo sta cosa se vede che magari ha avuto qualche mancamento il server e ci ha e ci ha acquacciato non so può capitare insomma eravamo ancora con il caricatore in mano eh oddio dove stiamo ah ok il caricatore ce l'abbiamo quindi stavo mettendo questo perfetto questa che monta i 9 e 19 che sono non so questi e non so manco questi altri vabbè comunque non non mali direi questo lo mettiamo qua ok quindi abbiamo una bella pistoletta insomma non male e anche una mitraglietta niente da da lungo raggio però diciamo che da corto siamo siamo messi abbastanza bene dovrebbe essere carica la pistola no? sì ok allora direi che possiamo allontanarci da qui abbiamo guardato tutto quanto e c'è ah qua c'è pure la fontanella addirittura così fuori fuori dalla porta ci sono delle manette qua queste ce le prendiamo e anche la giacca non sembra male però molto danneggiata molto danneggiata isolamento pessimo isolamento basso se teniamo la nostra beviamo un attimo e poi ci ci allontaniamo ecco che è oh mi era sembrato di sentire qualcuno corre dai che se no ci bagniamo bevi qua c'è pure uno zombie là ma vorrei andarmene dai troppo non ho niente per per tenermela insomma quest'acqua presso vabbè basta direi andiamosene e niente rega tocca ovviamente controllarsi le le case qui approfittando che magari possiamo trovare qualcosa di interessante questo che è eh questi sono già roba umida ovviamente sono stati fuori a beve devo ancora regolare la la sensibilità decisamente troppo troppo sensibile per i miei gusti mi avete anche scritto che appunto il wipe è una cosa normale dopo 8 mesi quindi non mi devo meravigliare che sia stato fatto dato che insomma era da un po' che giocavo non non me lo sarei immaginato ecco però secondo me ci sta eh anche perché comunque sia soprattutto quando magari si va ad aggiungere questa è una è un orologio quando si vanno ad aggiungere diverse cose ci sta che si faccia un wipe giusto per anche far ricominciare un po' tutti quanti allora questo isolamento medio non è male così magari ci togliamo questo che è pure umido e switchalo un attimo diciamo ovviamente anche tutti la roba che abbiamo dentro certo il giallo non passa assolutamente inosservato però niente eh migliore di questo non l'abbiamo trovato per il momento allora apriamo questo barattolo così iniziamo anche a mangiare perché a bere abbiamo bevuto ma sentiamo qualche brontulio in pancia mangiamo e proseguiamo ovviamente lungo la nostra la nostra strada non ho idea di dove di dove siamo in verità perché abbiamo fatto un giro un po' diverso da quello che solitamente faccio quindi mi sono un attimo perso però va bene uguale insomma è una che dobbiamo necessariamente fa gli stessi gli stessi giri tutte le volte allora questa è la stessa casa in cui siamo entrati prima qui c'è una bella macchinina che purtroppo è tutta sfasciata vediamo se all'interno c'è qualcosa che può tornarci comodo assolutamente no ecchio questo se mangia buono e questo che è una scarpe una scarpe una trail questa è su umida quasi quasi mi cambio dai a posto per il momento non abbiamo problemi di di bagnato diciamo se riusciamo a passare velocemente magari tra una tra una casa e l'altra siamo anche un po' più al sicuro questo è un berretto ma ce l'ho già vabbè aspetta però magari il nostro è bagnato infatti fatto questi comunque se bagnano nel momento in cui usciamo però perlomeno possiamo rimanere dentro con qualcosa di buono e di di non umido dai come piove dannazione allora dai proseguiamo qua che c'è un forcone vabbè il forcone non ci facciamo niente insomma siamo abbastanza armati questa non dovrebbe essere male sta questa cosa possiamo mettere semi-automatica automatica mettiamo semi-automatica perché magari automatica fa troppi colpi di essarza come per via del rinculo ed è in casino allora il nostro adesivo ce lo prendiamo però mi servirebbe un qualche zaino qualcosa di un po' più capiente per portarmi indietro le cose eccolo è una cartella tiè alle brutte ci potrebbe avere un caricatore dell'U70 che assolutamente non ho però per il momento portiamoci arrendiamo pure sta cartelletta almeno iniziamo a spostarci un po' di robetta e così stiamo a posto ok qua mettiamo roba da mangiare e qua lasciamo i corpi e via beh oh ci ha detto fortuna ha detto mi serviva qualcosa l'avremmo subito trovata mi servirebbe che ne so una borraccia vediamo un po' magari funziona a chiedere le cose gentilmente magari funziona scatola di colpi punto 22 che non ci serve a niente però noi nel dubbio ce li portiamo comunque dietro iniziamo a farci la la collezione diciamo di colpi ok ragazzi allora riprendiamo avevo un ottimo interrotto perché con la pioggia era un casino andare in giro poi è terminata la pioggia ed è venuto la ed è venuta la notte quindi è passata mezz'ora praticamente dall'ultima dall'ultima volta ora sta albeggiando quindi dovremmo essere abbastanza al sicuro allora fagioli stufati scatola questi ci riprendiamo sta iniziando a fare un po' freschino c'è pure una pistola qua questa pure piccoletta dai ci possiamo anche evitate ah questo è proprio il caricatore della della pistola U70 U70 ammazza che fortuna portamosi pure questa scambiala un secondo combinala ok vabbè meglio di niente per il momento le brutte la la lasceremo allora ma che cos'è ma perché mi dice connessione instabile dannazione ma che è oggi boh o c'è qualcosa che non va tra tra team e ovviamente devo aspettare e il server non lo so oggi tante disconnessioni dannazione non so se è una questione al lato server o al lato mio provider non lo so il ping quando sono entrato era abbastanza buono insomma 65 70 insomma costi servendo stanno come posizione però ci può stare insomma ci riproviamo anche prima ha fatto così poi è andata bene allora la pistola ce l'abbiamo sì per fortuna salva veramente ogni ogni centimetro che facciamo allora vediamo se riusciamo a fare una partita fatta bene scambiamo un attimo questo così ci mangiamo su ultimo pago dei peschi sciroppati e poi possiamo di nuovo uscire allora non vedevamo da qua quindi proseguiamo lungo la strada anzi questa è pure l'ultima l'ultima casa ok quindi andiamo verso verso l'ignoto ripeto di solito non è oh sentiero rosso questo solitamente non era questo il la strada che andavo a fare però cambiamo ogni tanto ripeto non è non è un problema già che siamo sul sentiero rosso memory un po' della della cartina non è non è male allora di qua ovviamente qui dentro i boschi devo stare attento anche a eventuali lupi quindi cerchiamo di di muoverci il più velocemente possibile così intanto se riscaldiamo che siamo usciti un po' leggerini insomma non ti ho fatto il pencorpo questa è una cosa che si muoveva non sento per il momento direi ululare quindi è assolutamente un buon segno però ovviamente sempre occhi soprattutto orecchie ben attenti non so la tua porta a sta strada tecnicamente dovrebbe essere il sentiero rosso c'era la l'indicazione e si sta pure lì seguiamo quello eh ora ma qua c'è la bifurcazione pensa che prosegui di qua eh si sulla pietra lo si chiama qui ragazzi se vi ricordare insomma il sentiero rosso alla fine faceva quasi tutto il giro della mappa grossomodo quindi magari andiamo a scoprire nuove nuove zone che non avevamo ancora ancora scoperto certo se ci andiamo ad avventurare troppo all'interno potrebbe essere un problema soprattutto perché non abbiamo tutta sta ste scorte soprattutto per quanto riguarda il il bere diciamo che il cibo si dai parte questo insomma stiamo messi malissimo sul bere invece abbiamo sempre un po' di di problemi allora indicazioni probabilmente sono corrette quindi stiamo andando assolutamente nella parte giusta sperando di non fa che qua ah ne è un ramo visto per un attimo un colore differente pensavo fosse tipo un fungo o qualcosa del genere invece no non so se sto sto sentiero alla fine ora stiamo tornando praticamente indietro quindi sta a fare tutto un giro strano però in assenza ovviamente di altre indicazioni meglio seguire quello che sicuramente da qualche parte ci porterà anche se ripeto abbiamo fatto praticamente il giro andiamo un attimo a 12 porta cosa per la nostra fidata mitraglietta che siamo stati fortunati nel nel trovarne appunto come armi siamo belli carichi insomma tra pistole e mitragliette qui siamo messi affatto bene poi questa qua col silenziatore incorporato può assolutamente tornarci utile allora la direzione è la stessa cioè quella corretta per il momento seguiamo sto sentiero e vediamo dove ci porterà mi piacerebbe incrociare delle case insomma giusto per avere segni di civiltà e non solo sto bosco allora qua mi sa che forse c'è la mappa non è vero c'è solo il tavolo da picnic oh una balestra addirittura questa se non ricordo male è tipo le novità che sono state introdotte minchia da è grossa ma la trova i fricci però sicuramente forse si potranno craftare in qualche modo vabbè noi ce la portiamo giusto per per completezza allora vediamo un attimino oh là ci sono delle case minchia stavo passando così non me ne sono anche accorto e allora qui il sentiero rosso volge a sinistra però io quasi quasi vado a vedere un po' qui la situazione direi proprio di sì anche perché insomma abbiamo anche un po' freschetto malgrado insomma il sole stia già abbastanza alto ma non non così tanto a quanto pare da da poterci riscaldare allora ricordiamoci più che altro poi di risalire qui e di tornare diciamo sul sul sentiero se no da qui in poi possiamo riprendere un'altra strada insomma non è che ha detto al medico che dobbiamo seguire necessariamente il sentiero rosso allora occhio qua questa già sembra una cosa buona un caban isolamento medico isolamento ottimo direi che possiamo anche cambiare l'unica cosa è questo rosso questo rosso purpura che proprio è molto molto stelto come colore allora il classico bk12 quasi quasi lo lascio là senza che sopportava troppa roba a parte che la palestra sta veramente malconcia è danneggiata pure capirai ma la so preso giusto per vedere se siamo magari fortunati nel trovare delle delle frecce e provarla così giusto come curiosità mia insomma qui c'è apposta no qui c'è una gallina mi sembra da di vedere peccato non avere dei guanti se no potevamo facci magari allora ci porno zombetto vabbè quello non mi preoccupo ovviamente siamo arrivati noi potevamo usarla la la gallina e ci facevamo due bistecchine su sui ferri qui il problema è che non ho niente per poter rompere eventuali rami per fare gli stecchietti c'ho il cortello ma quello rischia che mi si rompa veramente in 30 secondi se non la dovrei ammazzare e portarmela dietro in in attesa altre scarpe no questo è molto danneggiato stavo ma rendo di freddo dannazione giacca isolamento alto questa isolamento ottimo quindi molto meglio questa a parità di spazio tanto rossa per rossa tenemosa quella che ci isola meglio dal freddo e qua non c'è nient'altro quindi proseguiamo non aveva una grossa un grosso numero di player all'interno quindi magari a parte che la fortuna che abbiamo noi troviamo comunque qualcuno però non dovrebbe essere così alta la probabilità ecco poi ripeto mai dire mai allora sto cercando di passare a parte che ma così ok voglio passare un po' più stealth anzi fammelo fare questo vai c2 ok c'è niente se entriamo dentro casa su ok ora questo c'è un altro giubbotto imbottito e batterie che non ci servono sto caricatore per la mk 11 cioè mk2 scusate e che non abbiamo quindi vabbè inutile portarci dietro sta batteria che era sentito un rumore ma credo sia tipo la gallina che giro un solo dicevo il caricatore dai senza che se lo portiamo dietro inutile ok l'acceso vannati si facciamoci tutto il giro di queste di queste casette poi ripeto torniamo indietro ok questa è aperta oppure oppure no insomma torniamo indietro nel senso sulla sul sul sentiero che abbiamo visto prima qua non c'è nient'altro a parte occhiali quindi niente qui sembra comunque abbastanza grande e per la gallina non lo so rega sarei tentato di prenderla in verità eh però come vi ho detto non ho niente per il momento per poter eventualmente procurarmi dei rametti senza ripeto dover utilizzare il cortella che poi mi sa che non è manca adatto quindi è un casino da questo punto di vista niente sto a fa il giro invece di di scegliastra più corta allora qui che c'è carne di maiale mi pare buono vabbè come cibo lo stiamo comunque trovando che assolutamente non è male purtroppo è anche quello che va via molto più velocemente rispetto alla alla sete certo trovassimo pure una bottiglietta a me non dispiacerebbe che qua se proprio dovessimo dovessi scegliere preferirei una bottiglietta questo è sempre il giubbottino al solito un bottiglio una macchina abbandonata oh che c'è sopra cibo sconosciuto qua tocca st'attenti il portellone eccetera non si apre questo no quello sconosciuto bisogna prestare attenzione l'ultima volta mi sa che è stato proprio quello a farci ammalare visto che vorrei cercate fa una run in cui non lo siamo cerchiamo di di pestarci un po' attenzione questa che è in casco da enduro e e basta dovrei cambiare questi pantaloni perché questi pantaloni a tre quarti non è che sto proprio top infatti uscendo abbiamo anche un po' di freddo ah ma qui si si prosegue diciamo il villaggetto dalla collina mi sembrava molto più piccolo invece c'è tutta sta parte ancora ottimo così e dov'è che siamo aspettate a tin tin ta tin che ha qualcosa del genere questo per avere poi un'idea effettivamente della della posizione e mica qui hanno fatto le buche insomma qualcuno starà piantando qui c'è la spaventa passeri ma non c'è so arberi questo senta riace dove capì ok o una bottiglietta d'acqua bottiglietta d'acqua che vediamo ovviamente ora non abbiamo tutta stasera quindi non la vado ad utilizzare in teoria andrebbe svuotata e e poi riempita per evitate di essere intossicati però ripeto per il momento non abbiamo bisogno di acqua quindi buono averla trovata assolutamente però dobbiamo gestire bene la situazione è possibile perché non c'è una cacchio di fontana qua oh apri scatole buono ci piace ci piace aspetta colpi 380 ok c'eravamo già altri infatti quindi combina tutto poi siamo stati questo ormaglione proprio ma ieri non mi interessa sono stati fortunati a sto giro eh raga quella non ci serve appunto mi servirebbe anche qua che è aperto ok maglione qua vestito da bambino ok tutto tutto vuoto aperte ma ma vuoti quindi ho c'è passato qualcuno sicuramente ci sarà passato qualcuno la camicia no mi servono pantaloni dannazione e niente e camicia e no come ben di altro stiamo a posto stavo a pensare eventualmente di fare degli stracci ma non è un problema insomma anche eventualmente degli inneschi se vogliamo accendere se vogliamo accendere il fuoco ma insomma le brutte le facciamo la falce la falce può essere utilizzata per no mi sa che piramidi no non lo so vabbè ripeto per il momento non abbiamo problemi di di cibo anche ok non c'è niente il cappelluccio qua isolamento ottimo quello nostro come è basso quindi ce lo cambiamo e proseguiamo troppo a parte se mi conviene non so più la pistola a parte mitragliette di un altro bk12 niente mi servirebbe qualcosa che abbia un po' più di di range devo tutti armi ovviamente a corto raggio ok vado vediamo se c'è qualcosa qua sto in cima no e ci abbiamo nuovamente fame mamma mia insaziabili proprio ok che ci stiamo pure a muove però veramente insaziabili siamo oh c'è la fontanella qua ottima ora aspettate un attimo mettiamoci un attimo a spalle al sicuro e svuota annaffiamo un po' per terra dai ok quello è uno zombie e riempila dai riempila perfetto già che siamo qua bevemo servirebbero dei guanti lo so che con i stracci volendo potrei fare qualcosa di improvvisato sulle mani però se trovassi dei guanti sarebbe meglio ok via 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 damose oh un lucchetto e cavo vabbè niente che che ci può servire al momento c'è niente altri colpi e altri cappelli niente sti punto 22 stavano fa veramente una bella scorta oh qui c'è una base pare di legno eh sì con quattro cifre beh direi che si è baricato abbastanza bene dentro a dentro al capanno e vabbè buon per lui alla fine qua devi vestire tipo mette taffa e combinazioni non ne capirai prima che lo trovi sono quattro cifre non è impossibile ma insomma non è proprio velocissima come come cosa so se comunque potrebbe essere una buona zona un un paesino del genere comunque piccolo hai la fontana quindi acqua sicuramente sta in posto il cibo insomma prima o poi spawna qualcosa all'interno dei dei locali diciamo quindi non è non è comunque male come come cosa non sta ma ecco troppo vicino qua c'è un'altra pistola sto fa ancora cj70 però noi ci prendiamo eventualmente solo il caricatore che è la stessa no? questa è molto danneggiata questa è usulata e allora no aspetta famo il contrario allora un attimino qui scambia metti i cargatori cioè metti i colpi ah scambiamo giusto per una questione di di usura ok così la combini la combini ah che palle niente c'è c'è un po' di lag e questa la mettiamo qua mentre questa qui ci togliamo i corpi e niente mamma mia che che rottura di scatole oggi vediamo un po' se riusciamo giusto per finire questa cosa ragazzi poi ci salutiamo perché oggi è stato un calvario cerchi di registrare questa puntata veramente un calvario posizione in coda addirittura c'è nessuno posizione in coda posizione in coda sono tra tutti adesso tipo ma che è e niente vabbè finiamo questa cosa come ho detto ragazzi poi ci ci salutiamo non so se è una ripeto una questione mia di connessione ma insomma ce l'ho la gigabit però bisogna vedere eventualmente che tipo di strade tra virgolette fa la team che è il mio provider per arrivare al server quindi magari non è proprio stabilissima la questione allora quello che stavo cercando di fare era anche togliere il no no così pallo sbagliato volevo togliere il colpo in canna ok così meglio e ok facciamo un attimo così così ci carichiamo entrambi i caricatori così si fa prima ah su c'è i caricatori che mette se a spostarli insomma questa dovrei magari mettere pure qua e questo lo mettiamo qua va bene allora ragazzi questa travagliata puntata direi che possiamo anche salutarci qui certo qua dove c'è sta anche la base magari non è proprio il top però insomma ce ne andremo abbastanza velocemente bisogna capire se appunto ritornare indietro quindi rimboccare il sentiero rosso e proseguire o se beccare qualche qualche strada qui anche se qui effettivamente finiva insomma la la situazione ora che mi ricordo ci eravamo già capitati qua su sto su sto villaggetto che finiva così diciamo terminava così quindi non male va bene allora ragazzi io vi saluto vi ringrazio come sempre della visione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao